questo è il vietnam che ci piace spendiamo tantissimo da noi per un albergo che in realtà aveva una finestra che guardava verso la fogna e poi veniamo qui a we prendiamo un albergo che costa molto molto di meno e prendete ci capita questo siamo al 22esimo piano e praticamente funziona così ecco roberta già sta in ufficio qua prende le decisioni prende le decisioni decreti e tutto quanto ma io vi dico solamente guardate che panorama c'è una cosa pazzesca questo veramente costato quattro noccioline e però che ne so che ne so oppure forse lì c'è anche lo stadio bernabéu e qui c'è il mondo che va musica appena siamo entrati fantastico e poi ecco qui continuiamo e non si spiega veramente spettacolo ecco qua roberta adesso deciderà le sorti presidente vabbè vabbè però è bello guarda qui uno dorme c'è a poco lo strapio un po quello pesante quindi come sempre noi essendo da psicosi occidentale laggiù sicuramente sbucherà tipo un aeroplano e e quindi dovevo psicausis e niente va bene ok